La partita è una partita difficile, ma non è una partita impossibile, non ce ne sono di partite impossibili. Io mi auguro che la squadra possa fornire sempre un buon livello di prestazione alla domenica, anche se poi gli avversari sono diversi, la partita che imposti è diversa, i riferimenti sono diversi, le partite sono uguali. Soprattutto nel campione italiano, dove tu trovi avversari che danno un'interpretazione alla partita, ognuno con uno stile, ognuno con un pensiero tecnico, ognuno con una strategia diversa. Noi dobbiamo essere bravi a far partite, a garantire un buon livello di prestazione dentro la partita. Ogni settimana lavoriamo in questa direzione. Io mi auguro che la squadra possa fare domani un'ottima prestazione e soprattutto risultato. Perché poi è il risultato quello che ti permette di spingere sull'acceleratore delle convinzioni, di migliorare la stima, l'autostima dei calciatori, la fiducia della squadra. Io li vedo bene, lavorano bene, non mi lamento certo di come si approcciano al lavoro. La Juventus è una squadra forte. Molte volte le squadre sono forti anche per mentalità, sono più forti di quello che in realtà poi sono. Perché quando vinci, quando sei abituato a vincere, ti senti forte come calciatore e respiri comunque la forza della squadra. È sempre una partita difficile, non dico proibitiva, ma è difficile. È partita bene in campionato, Allegri e Ari hanno dato le sue cose, il calciatore li conosce, ha qualche assenza, però rimane formazione forte e competitiva e dal punto di vista tecnico e dal punto di vista della personalità della squadra, del carisma di squadra. E noi dobbiamo fare un'altra grande partita, perché quella con l'Atalanta per me è stata una gran partita, considerando anche che era la prima di campionato. Bisogna fare un'altra grande partita e bisogna avere anche quel sostegno che soltanto i nostri tifosi ci sanno dare. Quel respirare aria di grandi partite dove tu puoi dire la tua, con umiltà, ma puoi dire la tua.